Ritorna anche in occasione di questo Natale a Candela, presso la sala Ex Omni, l'antica tradizione dei presepi con una preziosa mostra gratuita di arte presepiale organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepe e che rimarrà aperta fino all'8 gennaio 2023. L'esposizione, giunta ormai alla quindicesima edizione, mette in mostra creazioni originali che contribuiscono a tenere viva la tradizione dei presepi, i quali vengono curati nei minimi particolari con grande creatività e tematiche attuali. In Vaticano inoltre è esposto nella mostra i 100 presepi, nonché una realizzazione presepistica del presidente dell'Associazione Savino Freda, raffigurante la pace in Ucraina. Da evidenziare infine come l'associazione abbia partecipato col presepe raffigurante uno scorcio del centro storico di Candela, l'Arco della Madonna alla mostra i presepi artistici dei comuni puiesi presso la sala della sede del Consiglio regionale a Bari.